Maria Grazia Ferrari, nel settore dell'estetica cosa fa la differenza, la specializzazione secondo te? Oddio, è una domanda molto secca, ma ragazzi è interessante. Allora, in realtà è il classico concetto, nel senso che non c'è una cosa, non c'è la bacchetta magica, cioè quando voi mi chiedete, mi dici la cosa, in realtà il business è qualcosa di complesso, cioè tutto deve funzionare insieme, tutto deve funzionare insieme. Quindi, nel settore dell'estetica funziona non tanto di per sé la specializzazione, non è detto, bisognerebbe analizzare il centro, eccetera, eccetera, ma il suo posizionamento certamente, che potrebbe nascere dalla specializzazione, ma alcune volte non è detto, il posizionamento può, un centro estetico può non dipendere necessariamente dalla specializzazione, potrebbe essere un focus, un posizionamento sul target, sullo stile o magari posizionato per il lusso e magari fare servizi anche da, dipende, quindi sto assolutamente inventando, dipende in particolare, quindi poi dalla mia capacità di fare lead generation, cioè se siete bravissimi ragazzi a fare mani e piedi, il manicure, il piedicure, fare i massaggi, tutte queste cose, ma non sapete fare marketing, i clienti non arrivano. Quindi, cioè, il compito di un imprenditore, ragazzi, non è svolgere il lavoro tecnico all'interno del centro e gestire i collaboratori, il compito dell'imprenditore innanzitutto è avere la fila di persone che vogliono entrare nel mio centro estetico, ma come in qualunque altro business. Quindi quando tu, Maria Grazia, ti sarai trasformata in una persona, dopo aver deciso un certo tipo di posizionamento, capace di, ok, far entrare clienti nel tuo centro, o ti rivolgerai magari a noi come persone specializzate che ti possono dare una mano, questo succederà. Poi ci sono altri aspetti, sicuramente, cioè, tutto conta. La capacità di selezionare ragazze in gamba, motivate, che siano brave a eseguire, per esempio, tecnicamente i trattamenti, che siano gentili con i clienti, che siano connesse, e chi si occupa di questa cosa che sia anche bravo a vendere, perché in realtà noi abbiamo, quindi, capire come creare un team all'interno del centro estetico, quando sei piccolo bisogna un po' arrangiarsi, poi bisogna avere delle persone dedicate, cioè nel senso che non basta solo il marketing, poi le persone bisogna vendere gli pacchetti e bisogna saperteli rivendere, i clienti vanno inseguiti, quindi servono delle skill proprio da venditore, da venditrice, eccetera, eccetera. La capacità, quindi, di gestire il team diventa più importante della tua capacità oggi, per esempio, in cabina. È un pochino saper guardare i numeri, chiaramente, perché se non sai guardare, cioè, sai fare tutto ma i numeri non li sai guardare, saltiamo per aria. Quindi è tutto importante, ok? La capacità di saper fare marketing, la capacità di svolgere bene il lavoro, la capacità di accogliere il cliente e di vendere sono le cose fondamentali. Tutte insieme fanno la differenza in un centro estetico, perché se ne manca una, ti lascio immaginare che è un tavolo in un al quale manca una gamba, è un peccato.